Da ieri pomeriggio, in maniera naturalmente discreta, è aumentato lo stato di approntamento delle unità navali e aeree dislocate nella base navale di Taranto e nella base aerea di Grottaglie. Le notizie provenienti dal Mar Rosso preoccupano e quindi bisogna attrezzarsi per qualunque evenienza. Ieri la nave della Marina Militare Italiana, Caio Duilio, mentre era in navigazione sul Mar Rosso, ha abbattuto un drone degli Uti, i ribelli dello Yemen. Il drone, secondo la nota del Ministero della Difesa, è stato distrutto a circa 6.000 metri dal caccia torpediniere verso il quale era diretto. Pertanto l'abbattimento è stato effettuato in attuazione del principio di autodifesa all'interno del perimetro dell'operazione EUNAV for Aspides dell'Unione Europea. A breve, la nave italiana ne diventerà l'ammiraglia sotto il comando del contrammiraglio Stefano Costantino, che avrà il compito di coordinare la flotta composta da navi di diversi paesi, dalla Francia al Belgio, alla Germania e alla Grecia. Un evento, il secondo che vede una nave italiana bersaglio di un'azione ostile dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il primo risale agli anni 70, quando un mirage libico puntò contro la corvetta de Cristofaro che lo fece allontanare con qualche colpo di cannone. Un evento, quello accaduto nel Mar Rosso, che mette in evidenza la preparazione e l'efficienza di equipaggi e mezzi della Marina Militare italiana.